nord sud ovest est 8 8 3 alle 8 e 34 l'altra volta erano le 8 e 33 si funzionava meglio invece 8 e 34 comunque siamo tornati qui in diretta con voi grazie alla compagnia grazie anche a chi ci sta scrivendo al 331 7853 555 grazie perché hanno subito apprezzato i consigli della buona Tamara Valleo che ricordiamo cosa? tornerà settimana prossima appuntamento fisso e ci dice appunto Katia buongiorno e grazie delle info artistiche il teatro come ottima abitudine e quindi va bene grazie grazie a Tamara e grazie a Katia per il suo messaggio 331 7853 555 abbiamo un collegamento ancora adesso abbiamo un collegamento seconda parte di trasmissione ultima mezz'ora sono venuti settimana scorsa venerdì scorso a parlare di smonting e anche oggi abbiamo un collegamento telefonico Filippo Valenti da appunto di smonting buongiorno buongiorno Filippo buongiorno a tutti allora grazie di essere collegato con noi ci colleghiamo con Filippo perché tra tutte le cose che abbiamo detto settimana scorsa diciamo la verità questa è radio verità abbiamo dato tantissime cose ma ci siamo dimenticati delle cose perché ne fanno così tante che non ci stavano tutte nella mezz'ora in cui sono stati qua ospiti con noi e ce n'era una soprattutto che ci tenevamo tanto sia che Filippo ha far raccontare perché ci chiama diciamo tutti quanti un po' all'appello e possiamo contribuire tutti quanti giusto Filippo? sì 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 è un'iniziativa che vogliamo lanciare si chiama una ssd sospesa come il caffè napoletano qualcuno paga sì il caffè sospeso qualcuno paga questa ssd che non è altro che un disco veloce ok diciamo l'ssd è una memoria cioè è l'artisc moderno diciamo no? l'artisc veloce da nuova vita da nuova vita vecchi pc li rende veloci e quindi quando noi li rimettiamo a posto per donarli alle associazioni se ne abbiamo il pc è più veloce più performante e può essere utilizzato meglio quindi prendendo spunto dal caffè napoletano volevamo lanciare questa iniziativa chiarissimo chiarissimo allora come funziona appunto nella fattispecie come possiamo fare noi o cui ci sta ascoltando ma che magari anzi magari non deve neanche andare a comprare l'ssd magari ce l'ha però che ne so ce l'ha da 250 giga vuole fare lo sborone prendersi da un terabyte e dice va bene ma quello lì cosa me ne faccio lo sbatto via tanto che me frega me no non sbattere via niente riciclo riuso quello che dicevamo la scorsa volta riusiamo queste cose e se ce l'hai ferma donacela noi siamo raggiungibili a info chiocciolasmonting.it veniamo a prenderla direttamente noi e la installeremo su un nuovo su un vecchio pc per dargli nuova vita e vi assicuro che questi pc che veramente magari sono pc vecchi di 10 anche di più 15 anni rinascono completamente perché davvero la tecnologia in realtà è così avanti e quei computer lì potrebbero funzionare per altri 100 anni quasi no adesso per 100 esagero ma veramente per tantissimi anni ma ovviamente vai il modello nuovo vuoi l'ultimo l'ultimo gioco che è uscito per tuo figlio non gira sul computer che avevi o vuole l'hard disk veloce perché volete la grafica sempre più reale che poi io voglio capire una cosa ma se io gioco perché voglio la realtà io voglio la finzione tutto così reale mi spaventa anche un po con questo parleremo di tamara perché è una cosa molto teatrale è vero 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 e invece basta mettere a volte magari un hard disk più veloce una memoria più veloce e questi computer rinascono completamente voi veramente fate cioè franche stiamo niente in confronto cioè voi fate veramente delle delle opere d'arte mi vien da dire date vita a cose che chiunque darebbe per spacciato siete oltre la terapia intensiva siete dei computer no ma la cosa bella che non siamo gli unici nel senso molte altre associazioni fanno la stessa cosa utilizzano vecchi pc di 5 10 anni e utilizzando queste memorie veloci rinascono il guadagno in tempo è 10 volte ovvero un vecchio pc che ci impiega 300 secondi quindi 5 minuti ne impiega 30 ad attivarsi quindi è proprio veramente veramente utile e poi per chi non ha una ssd a casa può fare una donazione questa volta accetteremo le donazioni in soldi con paypal su donazione chiocciola smonti in punto it e poi avremo cura di questo ssd e a che associazione andrà capito chiarissimo quindi poi dopo infatti la cosa bella con smonti che non è che dai lì la roba e poi non sai più dove va loro poi ti dicono cosa succede cosa ne fanno cioè tutto quello che passa da loro appunto viene diciamo rendi contatto non solo economicamente ma anche socialmente già ti dicono la vita che avrà sì perché non vogliamo convincervi dello smonti vogliamo farvi innamorare dello smonti è fondamentalmente diverso e quindi dirvi dove vanno le cose che voi donate che voi reputavate un rifiuto e vengono riutilizzate per noi è fondamentale chiarissimo chiarissimo allora dai Filippo grazie mille ricordaci il sito su cui possiamo andare per sapere tutto e anche la mail a cui scrivere allora il sito è semplice smonting punto it la mail ancora più semplice è info chiocciola smonti in punto it e per fare la donazione è donazione chiocciola smonti in punto it prima di salutarti una cosa velocissima ricordiamo perché si chiama smonti smonti non è solo l'inglesizzazione della parola smontare ma non è solo quello ma è molto di più no è una parola macedonia che è formata da tre parole che è smontare insieme giocando noi giocando facciamo smontare le cose e attraverso il gioco cerchiamo di insegnare come funzionano le cose grazie mille grazie mille grazie a tutti buona continuazione giornata grazie continui a ascoltarci anche tu come tutti voi che stiamo collegati con noi in questo momento su crystal radio 96.2 fm da plus sito internet app di ios e android adesso un po di musica merci the blessed madonna ciao Grazie per la visione!